ciao ragazzi benvenuti alla prima lezione tra virgolette al primo episodio di l'officina e basso dove vi mostrerò con le giuste premesse tanta cautela tanta pazienza quello che ho imparato con gli anni quando sono ragazzino che smonto mi piace già di mio smontare rimontare le cose quindi da quando 14 anni che rompo bassi ordino pezzi assemblo mi diverto quindi nel corso degli anni appunto fatto un po di esperienza sbagliando si impara e volevo mostrarvi come poter fare tante cosette senza per forza ricorrere a spese enormi quindi gli usaio e attrezzi costosi e via dicendo quindi con piccole piccoli oggettini che si trovano nel file a te tranquillamente senza spendere un granché vi mostrerò l'assemblaggio di uno strumento partendo da zero e poi vediamo piano piano come evolve finiremo con la parte elettronica quindi come sostituire o montare o riparare il la parte elettronica dello strumento quindi pick up potenziometri quant'altro condensatori la parte del manico la tastiera come curarla come montare le corde come sostituirle come regolare tutto quello che c'è da regolare e cercherò di farlo spiegandolo nel modo più semplice possibile anche perché non sono tanto colto da usare paroloni quindi vi faccio vedere la mia modestissima stanzina e vi faccio vedere cosa uso io cosa serve questi sono i miei ernesi qui c'è di tutto moto serie attrezzi dal lavoro giardinaggio lascio far tutto c'è di tutto un compressorino due biciclette e un tavolino allora primo consiglio che vedo veramente con il cuore è quello se ne avete modo di crearvi uno spazzettino dove nessuno mi rompe i cosiddetti coglioncini quindi se avete come ho io la fortuna di avere un garage perfetto altrimenti cercate come quando non lo avevo di crearvi uno spazzetto in una stanza dove potete mettervi con calma sottolineo con calma perché questi lavori qui chi ha fretta è meglio se se non ci si mette quindi ci vuole calma e sangue freddo poi io utilizzo tutte le cose che utilizzo sono qui più o meno allora un semplicissimo saldatore ma stanno so come lo chiamate voi e questo qualche prodottino semplice bene la pulizia lo strumento ci sono di tutti i tipi questa roba di mille anni fa comunque fa sempre come poi c'è un po di scorti innanzitutto se avete un tavolo non fate l'errore fatto io mia madre mi voleva allinciare mettete sempre un bel cartone sotto più spesso possibile perché spesso gioco di parole ci può scappare mano cacciavite o qualsiasi altra cosa e si può scheggiare il tavolo e poi la mamma o la moglie ci ci mandano fuori casa poi qui dentro milano un riattiva contatti ma questo è tutta per la parte elettronica martellino diciamo di di gomma molto utile procuratevi un più brugole possibili perché tras rod e soprattutto le regolazioni del ponte hanno fatte sfortunatamente mille misure diverse quindi ogni ponte più o meno ha una chiave una misura delle brugoline diversa altra pulizia po di nastri vari forbici da elettricista cacciavite calibri questi come si chiamano i spessori per misurare distanze varie eccetera tra una corda e laccia vi volete lavare i denti non so perché finito qui c'è anche questo di carta a vetro se volete fare altri tipi di operazioni che poi vedremo e anche basta diciamo poi allora facciamo finta che avete come me la fissa per l'assemblaggio la fissa per cercare pezzi a pochi euro e poi cercare di mettere insieme qualcosa che poi possa essere diciamo suonabile facciamo finta che avete acquistato per esempio un corpo così però non lo prenderò di esempio perché questo veramente ha preso una leggerissima caduta e mi scivolta troppo ora per sistemarlo quindi in genere quando comprate roba molto molto economica che non è detto che non sia di qualità che dipende dal legno può capitare che vi arrivi magari con misure non diciamo non classiche quindi dovete fare un po' di alesaggi diciamo così vi dovete reinventare un po per rimetterlo a misure che qui ci va ovviamente il manico può capitare anche questo oppure che le misure dei fori non tornino ma vedremo tutto insieme ecco facciamo conto che avete comprato questo bellissimo corpo che non si direbbe ma è originale della fede pazzesco e lo avete pagato come me tipo 30 euro qualcuno magari non sa nemmeno cos'è ve lo danno così purtroppo quindi la prima cosa da fare sarà finirlo di cartare stuccare nelle parti rotte perché questo probabilmente è stato preso a sassate però è un fender originale credo messicano ma a noi ora poco ci importa un manico in questo caso nuovo cioè nuovo nel senso che si fa finta che sia nuovo vedete lo danno in genere in questo modo qui ovvero con spesso con le meccaniche già al loro posto altrimenti le togliamo cioè le tolgo e poi vi faccio vedere come che possibili problemi si possono trovare quando si ordinano separatamente dal manico quindi che non tornino fuori che manchi qualche pezzo eccetera eccetera di solito vi danno una placchetta e le viti del manico appunto poi avete tutta la parte elettronica che però vedremo successivamente quindi pick up collegamenti cavi cavetti circuito diciamo il ponte le manopole dei potenziometri i potenziometri condensatore tutto diciamo vi siate procurati tutti volete partire da zero quindi io vi mostrerò ripeto nella mia semplicità tanta semplicità nella vita e leggerezza vi mostrerò come divertirvi soprattutto questo quindi io parlo di roba non costosa e non mi permetto non voglio indurvi in tentazioni di lavorare su oggetti costosi a meno che voi non abbiate già una discreta manualità quindi non avrete bisogno della mia guida ma altrimenti vi consiglio di o avere già cioè vi consiglio o avete già roba economica col quale sperimentare o comunque che volete assemblare o sono ordinare su internet tanto si trova di tutto se mai vi aiuto io mi iscrivete cose economiche oppure cose come ho trovato io distrutte da rimettere soltanto si vedrà tutto insieme quindi ragazzi allora se se avete critiche ultimamente sto vedendo diversi pollicini in giù però se non mi scrivete cos'è che non vi piace le mie lezioni ovviamente sono musicista per chi magari si è collegato solo in questo video che però musicista che si diverte anche a fare qualche qualche riparazione qualche modifica nei bassi e nell'istrumento in generale quindi se avete critiche però scrivetelo perché mi piace la critica perché almeno miglioro altrimenti se no uno va avanti dicendo che sto facendo tutto bene se nessuno dice mai niente quindi per oggi tanto sarà diviso in puntate poi in capitoli ci sarà tutta parte scritta con le foto quindi video più foto tutto cercherò di fare tutto perché sono da solo qui è casino questi telefoni telecamere vabbè comunque ci si prova e se mi mettete mi piace quindi io soprattutto se vi iscrivete al canale quando pubblicherò i video eccetera eccetera vi arriverà la notifichina quindi ci vediamo nella prossima puntata